Elezioni del baby sindaco a Caltanissetta, ieri secondo confronto online tra i 17 candidati a primo cittadino sui 24 consiglieri già stati eletti in città. I baby candidati hanno nuovamente esposto i loro programmi con più determinazione della prima volta, nonostante le piccole difficoltà date dalla piattaforma. Programmi sempre molto attenti alle tematiche che riguardano ambiente, turismo, sport, storia ed ecologia. Visioni di una Caltanissetta a portata di bambini e dove le idee sono chiare ed è tanta la voglia di conoscere di più quanto è presente nella stessa città. Hanno voglia di vivere di più i giovanissimi nisseni e nissene che hanno argomentato in dettaglio i loro programmi, poi si è passati al voto. Nelle scuole quindi è ancora in atto lo scrutinio e pare ci sia un possibile ballottaggio. Posticipata al 24 febbraio la data di insegnamento in cui sarà decisa anche la baby giunta, che prevederà quattro assessori, uno per ciascun istituto comprensivo e mentre si contano i voti è attesissimo l'incontro in presenza a Palazzo del Carmine.